Una delle brutture che esistono da tanto tempo all'ingresso della città di Fano verso Pesaro verrà ora bonificata. È stato un lavoro lungo di carattere urbanistico, di carattere edile, che è stato portato a termine. Enzo Di Tommaso, di che cosa parliamo e che cosa è stato fatto in tutti questi anni per risolvere questo problema? Dunque noi siamo partiti per risolvere questo problema di questa bruttura che esiste sull'altro peso entrando in Fano quattro anni fa. Ed è stato un inter molto lungo perché prima c'era il problema dell'arsilla che il genio civile doveva fare dei lavori che erano stati previsti in un certo modo, poi dopo sono stati modificati eccetera. E poi dopo sono venuti fuori anche dei vincoli di carattere urbanistico che c'erano già dal 1967 al quale abbiamo dovuto lavorare insieme alla regione, alla sovrintendenza e al Ministero della Cultura per ridimensionarli. Ci siamo riusciti in otto mesi di lavoro, di riunioni, di incontri. Io devo ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano perché purtroppo nel 1967 la provincia aveva individuato una fascia in quanto quella volta era tutto rurale, la collina di San Biagio, della chiesa del Carmine eccetera. Una fascia fine a Centinarola che potevi abbattere gli immobili ma li dovevi ricostruirli doveva, quindi li ristrutturavi. Ora il Comune di Fano aveva 15 o 20 pratiche ferme che non riusciva a autorizzare perché anche Centinarola, Fenile, insomma chi aveva un bagno che lo voleva spostare, lo voleva ampliare, non lo poteva fare. In base a questa restrizione che abbiamo ottenuto e quindi rimane comunque tutta vincolata tutta la collina, possiamo buttarlo giù e quindi riusciamo a bonificare questa zona. C'erano anche problemi di ordine pubblico? Sì, i problemi di ordine pubblico ci sono stati in effetti per conto della proprietà perché ogni tanto rientrava qualcuno, qualcuno metteva i cartelloni, qualcuno metteva delle scritte che non potevano rimanere, abbiamo tolto qualcuno anche qualche giorno fa. Quindi l'ordine pubblico ogni tanto si murava, come succede anche da altre parti, i muri poi questi arrivano, lo sfondano, vanno dentro, ci bivaccano eccetera eccetera. Adesso questo è un giro, spero nel giro di un mese che venga buttato giù e ripulito tutta l'area, quindi questo problema qui si è risolto definitivamente. E che cosa sorgerà al posto di questo stabile degradato? Sorgerà una palazzina moderna in classe A3, molto con i pannelli solari, insomma con tutti i crismi che richiedono oggi le costruzioni nuove. Sono 16 appartamenti, c'è una grande richiesta perché si stanno aspettando appunto che vengono demoliti. Si ricolifercherà tutti i giardini lì di fianco perché i lotti sono compresi nella costruzione e diventerà un bel edificio che valorizzerà quella zona perché è anche ora che venga fatto questo lavoro.